Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, so che sabato mattina e sentire parlare di legge e quant'altro effettivamente potrebbe essere un po' noioso, quindi cercherò di farlo il più pratico possibile. Tempo fa avevo ottenuto a Milano un discorso simile su quello che è la nuova normativa privacy e come applicarla a WordPress fondamentalmente. Quindi a cosa bisogna stare attenti? Prima di tutto volevo sapere, chi è informato sulla nuova regolamentazione, più o meno cosa dice per quanto riguarda siti eccetera, alzate la mano. Bene, allora devo stare attento a quello che dico se no mi cazziate fondamentalmente. Allora, questi sono i quattro siti che potete creare tramite WordPress fondamentalmente. I primi due, il blog e il sito web, in fatto di compliance sono molto più semplici perché quello a cui bisogna stare attenti è come mostrare l'informativa ai propri utenti, anche se non sono registrati. Quello che succede in questo caso è che come tutti sapete, soprattutto per quanto riguarda i cookie, bisogna mettere il banner per l'informativa. Per l'informativa breve che poi rimanda a quella che è l'informativa ordinaria nella pagina relativa alla cookie policy. Prima col provvedimento del garante bisognava che ci fosse una discontinuità nel sito, il che vuol dire il quadrato che compare in sovraimpressione. Adesso il nuovo regolamento dice non vogliamo rovinare la UX design, soprattutto perché un sito comunque è la vetrina di una società. Quindi quello che succede è molto semplicemente quello che stanno facendo molte persone, molti siti adesso è oscurare il sito all'inizio, meglio oscurare nel senso di opacizzare il sito, di modo a far vedere che c'è il banner e poi con uno scroll down o con l'accettazione dei cookie viene tolta l'opacizzazione. Questo si presume quindi un'accettazione dei cookie e dell'informativa privacy. Per quanto riguarda il portfolio e il negozio ho voluto separarli molto semplicemente perché c'è un problema eventuale di profilazione quindi se si va a creare un e-commerce quello che succede è che si utilizzano cookie e tool di profilazione ed in questo caso c'è una compliance diversa da fare che è semplicemente il documento di impatto privacy ai sensi del nuovo regolamento in cui si dice che si sta effettuando una profilazione per quali motivi e quali rischi possono correre i vostri utenti nel caso si iscrivano al vostro sito. Non l'ho detto prima, se avete qualche domanda la dovremmo fare alla fine, giusto? Ok. Plugin API. Chi utilizza WordPress e ha programmato o implementa plugin API di WordPress? Ok. Sapete che c'è una compliance privacy da fare anche per questi? No. Bene. Questa è la risposta. Ok. Allora perché fondamentalmente quando io implemento ad esempio un API all'interno del mio sito come possa essere Google Maps per dire, io devo indicare nell'informativa che sto usando queste API, dati che vengono trattate e indicare il link all'informativa dell'API. E se non c'è l'informativa dell'API dovete spiegarlo voi nella vostra. Quindi tutto il vostro rischio e pericolo, come se vuol dire. No, scherzo. Per quanto riguarda i plugin invece, ovviamente implementano un'ulteriore funzione all'interno della vostra piattaforma e del vostro sito. In questo caso quindi, prima di implementare il plugin, quindi a parte vedere la parte tecnica, quello che bisogna capire è come il plugin tratte i dati e quale sia il relativo processo. In questo caso ad esempio ho messo quello del checkbox. Il checkbox. Il checkbox è fondamentale per il consenso perché è quello che viene, diciamola così, per best practice è la cosa migliore. Attenzione che per il checkbox è l'informativa. Qualora ci siano più finalità nella vostra informativa, l'utente deve accettarle tutte. Ad esempio non va bene che io abbia un solo checkbox per quanto riguarda l'iscrizione alla piattaforma, la newsletter e le comunicazioni commerciali. Queste sono tre finalità e quindi tutte devono richiedere il consenso e devono dare il consenso, altrimenti il trattamento risulta essere legittimo. Profilazione di nuovo, come dicevo prima, bisogna stare molto attenti. API ve l'ho accennato. Il social media marketing. Chi che fa social media marketing qui dentro, scusate? In pochi. Bene. Quindi volevo sapere, avete effettuato una valutazione del vostro processo di trattamento dati, quali trattate, eccetera? Chi è che ha detto sì? Bravo. Infatti sei l'unico, vedi? Sono pochi quelli che lo fanno. Quello che bisogna fare quando c'è un social media marketing e quindi quando si estrapolano dati e metadati da quelli che sono i social media, non basta ottenere il consenso da parte degli utenti, bisogna capire anche effettivamente se vengono trattati in modo legittimo, dove per modo legittimo si intende il legittimo interesse di chi sta trattando i dati. Tu non so se abbia fatto questo adesso o meno. No. Ok. Meglio così, come si vuol dire. Beh, in modo di non fare niente magari in modo anonimo i dati? Oppure? Questo è un metodo, poi l'ho valutato chiaramente, però diciamolo così, sicuramente meglio che trattare i dati di persone che sono iscritte ai social network. A volte quello che fanno anche i social media marketer è trattare i dati di amici di amici, come si suol dire, scusate il termine poco tecnico. Ovviamente il trattamento è legittimo, a meno che non ci sia un legittimo interesse del titolare del trattamento. Ultimo ho messo i metodi di pagamento, perché anche qui, se io faccio utilizzare un metodo di pagamento ai miei utenti, io devo indicare nell'informativa privacy che ci sarà questo metodo di pagamento e dare il link all'informativa del metodo di pagamento. Ad esempio Paypal va indicata l'informativa di Paypal. Non so cosa ci sia altro, però nel senso, per quanto riguarda i metodi di pagamento, questo è quello che bisogna fare in ottica di compliance privacy. Prima di procedere volevo dirvi che dal 25 maggio verrà abrogato il codice privacy, in toto, quindi ci sarà solo il nuovo regolamento. Quindi nelle informative non andranno più indicati gli articoli del vecchio decreto legislativo, ma andranno indicati solo quello del nuovo regolamento. Una scelta poco consona, secondo me, però a mio parere. GDPR, eccoci qua. Ho voluto elencare qualche novità del GDPR che andrà effettuata anche per quanto riguarda WordPress. Informativa, diritto a ubrio e portabilità dei dati saranno i due nuovi diritti che andranno inseriti obbligatoriamente nell'informativa al trattamento dati e andranno accettati. Non è solo una cosa che va messa nell'informativa, ma poi è un processo che va portato avanti. Se io dico che posso fare portabilità dei dati, cioè trasmettere i dati da un titolare del trattamento all'altro, al mio utente, devo essere in grado di farlo, perché quando l'utente mi viene a dire mi puoi dare tutti i miei dati e tu non lo fai, sei sanzionabile. Stessa cosa per diritto obbligo che è la cancellazione totale dei dati. Privacy by design e by default è un qualcosa di molto interessante e chi fa web design e quant'altro, sviluppa piattaforme, software, deve tenere in considerazione perché potrebbe avere una responsabilità. Perché la privacy by design fondamentalmente dice che quando io sto andando a sviluppare un qualcosa per un mio cliente, devo essere attento che questo che sto sviluppando sia compliant alla normativa. Quindi quello che consiglio è uno scarico di responsabilità fondamentalmente, che si prenda tutta la responsabilità e il titolare del trattamento. Privacy by default invece è quando io ho sviluppato e che vado a implementare la mia piattaforma e il mio sito web, sono io titolare del trattamento che devo essere compliant con l'utilizzo di questa piattaforma e di questo sito. Il principio di accountability è l'autoresponsabilizzazione del titolare del trattamento. Mi dicono che manca un minuto ma ho quasi finito. Il DPO. Chi è che sa chi sia il DPO e quant'altro? Ne ha sentito parlare? Tutti. Io prenderei lo spunto di Luca prima e dico che effettivamente secondo me non lo sapete perché nessuno lo sa adesso al momento. Il DPO è quella figura sia tecnica, informatica, sia legale, ma è anche la figura dirigenziale. Quindi non esiste una persona che abbia tutte queste tre competenze tecniche. Quello che sarà molto probabilmente sarà un ufficio composto a queste tre figure. Oppure una figura dirigenziale interna o esterna che si interfacci con altre due figure di riferimento. Data Protection Impact Assessment è il documento di impatto privacy che vi dicevo prima, obbligatorio in caso di profilazione e in caso di altri trattamenti. Grazie, io ho finito per oggi. Grazie mille Alessandro, utilissimo.